Io voglio sapere. Signor Reynolds, è desiderato al telefono. Grazie. Un secondo solo, scusate. Aspettami, eh. Ti prego. Dove vado? Ah, sì, signor Reynolds. Cabina 2, prego. Grazie. Un momento, prego. Pronto? Pronto? Sì? Diana! Chi ti ha detto che sto qui? Beh, sì, anche a me fa piacere. Stasera, no, 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 ho già preso un impegno. Se chiamavi due minuti prima. Dopo cena, non lo so. Diana, senti, io farò di tutto per sganciarmi, ma... Scusami, devo scappare. Ci sentiamo, eh? Tommy. Tommy. Dove vai? Ci vediamo domani. Noi andiamo a mangiare. Che ti succede? Niente. Senti, per favore, insomma, non scappare così. Tu vuoi schiacciare McIntyre. È logico. Conosco il tuo carattere. Hai lavorato con lui per 20 anni e ora cerchi la tua rivincita. L'Ammalgamated ha fatto dei massicci investimenti in zone... La cosa buona che hai fatto è stata proprio quella di mollare l'Ammalgamated. Tommy, non credo sia questo il posto e di certo non è il momento per parlare. Come al solito. Ti prego, resta.